Chi pensava che l'ondata di osservazioni da parte di associazioni, comitati ed enti sarebbe stata sufficiente a far fare marcia indietro all'Enel? Si è dovuto ricredere, la società energetica va dritta per la sua strada sul progetto di ampliamento della centrale idroelettrica Pizzone 2 e nelle contradduzioni inviate al Ministero dell'Ambiente risponde punto per punto ai più di 50 pareri e critiche comprese quelle mosse dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dalla Regione Molise. Per Enel il progetto rivisitato non impatta negativamente sull'ecosistema delle Mainarde né sulle attività turistiche presenti nell'area. Secondo l'azienda i timori del PNALM sull'alterazione del regime idrico e sugli effetti ambientali sarebbero infondati, l'intervento sostiene Enel, non introduce né deviazioni né captazioni da corsi d'acqua naturali. Le opere sotterranee inoltre sarebbero state pensate per garantire impermeabilità con tecnologie avanzate capaci di evitare ogni possibile impatto sulle falde. Anche l'oscillazione dei livelli del lago di Castel San Vincenzo, uno degli elementi che ha fatto discutere di più, sarebbe minima. Enel assicura che il funzionamento della nuova centrale non pregiudicherà la fruizione turistica del lago e per quanto riguarda i cantieri ribadisce che i lavori si concentreranno in zone già antropizzate a riparo da vincoli ambientali e che ogni area utilizzata sarà ripristinata e rinaturalizzata una volta terminati gli interventi. Enel dunque ancora una volta ridimensiona l'entità dell'opera e assicura che tutto avverrà nel rispetto del paesaggio e delle risorse naturali. Ma queste contradduzioni non bastano a spegnere le polemiche con il comitato No Pizzone 2 che ancora una volta ha ribadito la sua contrarietà. La battaglia resta aperta, Enel non arretra di un passo ma i comitati locali restano irremovibili. Ora la palla passa al Ministero dell'Ambiente, chiamato nei prossimi mesi a prendere la decisione definitiva sul progetto.